Andrea Raudetty Reviewer Buonasera a tutti, grazie per questo invito. Io ho una casa a Gressone, sono qui vicino, quindi mi sento un po' a casa. è un posto che adoro la Val d'Aosta, tutta la mia famiglia è profondamente appassionata di queste valli quindi quando c'è stato questo invito ero contentissimo di poter venire qua con tutta la famiglia poi mi hanno dato il bidone, sono rimasto da solo un figlio qui, un altro lì, la moglie con la sorella quindi sono qua, mi spiace allora, sogno e realtà la realtà è amara e quindi ognuno se ne fa un'idea come vuole sogno, vi dico subito che per uno che fa il mio mestiere è fare lo scienziato che produce tecnologia il sogno è di essere utile è un sogno molto piccolo, non è un sogno grandioso, avere un ruolo che vuol dire risolvere qualche problema il che prevede che alla base di un certo modo di lavorare un certo modo anche di vivere ci sia farsi le domande su cosa andrebbe cambiato, su cosa andrebbe corretto non è quello che vi farò vedere in queste prossime slide ma ve lo dico come introduzione probabilmente tutti vi sarete resi conto se avete visto la curva di crescita della popolazione del pianeta che per circa un milione di anni gli umani sono rimasti molto pochi su questo pianeta negli ultimi 5.000 anni siamo sempre stati meno di un miliardo negli ultimi 150 anni siamo arrivati a 7 miliardi quindi la curva della popolazione è stata piatta per millenni e poi ha cominciato a fare così siccome questi erano 5.000 anni nell'ultimo periodo se fosse una giornata sarebbe l'ultima mezz'ora la popolazione è arrivata a 7 miliardi il pianeta è stato progettato dalla natura per ospitare 3 miliardi di umani non 7 e questo vuol dire che non basta l'acqua non basta il cibo prodotto dall'agricoltura che tutti gli scarti che noi produciamo sono troppi rispetto a quelli che ci potremmo permettere e siccome il pianeta è un sistema chiuso cioè nessuno ci porta da fuori le derrate alimentari ci porta l'acqua e a un certo momento se la nostra casa è progettata per 3 miliardi di persone e ce ne mettiamo dentro 7 miliardi con la promessa di arrivare a 10 nei prossimi 3 decenni capite che c'è un problema questo problema oggi lo chiamiamo troppa nitride carbonica prodotta dalla nostra manifattura dagli allevamenti eccetera dall'agricoltura intensiva per dare da mangiare a tutti e questa troppa nitride carbonica ha generato i cambiamenti climatici e ora ci lamentiamo che ogni tanto c'è una tempesta una mareggiata cose che erano assolutamente monsoniche e ora avvengono a Genova per esempio dove non è mai successo ci lamentiamo del fatto che non c'è acqua noi non ce ne accorgiamo perché siamo fortunati ma c'è un 30% della popolazione del pianeta che ha meno di 10 litri di acqua a persona al giorno la soglia biologica è 5 questo integra tutto e non solo quello che si beve quello con cui ci si lava quello con cui si fa l'agricoltura eccetera ci lamentiamo delle disuguaglianze i fenomeni che abbiamo adesso di migrazione non quelli di 40 poveracci su una nave perché quelli su 500 milioni di europei sono niente e solo detruffatori possono dire che quello è un problema no no io dico altre cose io dico flussi di milioni di persone che da zone povere del paese del pianeta cercano di andare in zone più ricche questi si potrebbero descrivere con un'equazione termodinamica di diffusione la stessa equazione che descrive come le molecole vanno seguendo i gradienti di temperatura per esempio da una zona calda a una zona fredda c'è un gradiente le molecole si spostano per riequilibrare il sistema gli umani sono come un gas e cercano di trovare il loro equilibrio questi sono problemi epocali che dipendono dal fatto che siamo tanti perché vi sto dicendo queste cose perché allora uno scienziato un tecnologo uno che fa il mio mestiere e i ragazzi dell'IT ma tanti altri un po' in tutto il mondo dicono ma che possiamo fare la tecnologia ha fatto gli automobili gli automobili hanno creato l'inquinamento l'inquinamento ha fatto l'effetto serra l'agronomia ha creato l'agricoltura intensiva abbiamo tutti da mangiare però adesso abbiamo antropizzato troppo le terre produciamo troppa anidride carbonica dagli allevamenti stiamo riducendo la biodiversità cioè cosa ha fatto l'uomo? ha generato tecnologie per risolvere dei problemi e tipicamente ognuna di queste tecnologie ha creato dei problemi più grossi e i nuovi scienziati hanno dovuto mettere toppe sui problemi prodotti da quelli di prima che però cercavano di trovare delle soluzioni ve ne dico una che è da ridere perché fa veramente ridere intorno al 1830-40 è su internet non ricordo la data uno dei problemi principali di New York vi metterete a ridere era la cacca nelle strade perché siccome c'era tanto traffico andavano tutti con i cavalli e i carri questi cavalli ovviamente la facevano per strada e quindi c'erano cumuli di oltre mezzo metro di questo nobile materiale con le corsie fatte dalle ruote e la gente aveva il problema che letteralmente camminava era nella cacca come diciamo normalmente con implicazioni sul traffico urbano sulle infezioni sulla qualità dell'aria dell'ambiente eccetera che erano pazzesche e ci fu un movimento importante politico forte dal congresso che decise di fare un pool di esperti per risolvere il problema della cacca sulle strade che era un problema sanitario di trasporto eccetera e alcune fra le migliorimenti chimiche e non dei tempi delle logistiche dovevano risolvere questo problema di lì a poco la macchina con il motore a scoppio diventa la tecnologia dominante il problema della cacca evapora e quindi ecco che la tecnologia ha risolto un problema fondamentale dopo cento anni il problema del motore a scoppio è che ci sta soffocando insomma non mi devo dire cosa succede con l'inquinamento eccetera eccetera allora domanda fondamentale ma quindi la tecnologia è buona o è cattiva? quindi questo sistema messo in piedi dagli umani di creare tecnologia per risolvere un problema per mettere una toppa su qualcosa che qualcuno prima ha in qualche modo danneggiato è buono o è cattivo? esiste una soluzione universale ai problemi? chiaramente qui diventa filosofia allora qual è il sogno dello scienziato? lui spera di avere una botta di fortuna nella vita e riuscire a trovare una soluzione a un problema che auspicabilmente non genera i problemi più grossi di quelli che ha risolto e già se voi prendete questa semplicissima frase vi rendete conto che lo scienziato è un povero disgraziato che spera di fare del bene ma sostanzialmente sa che questo sarà molto difficile non vincere il Nobel quella è una convenzione fare una cosa utile incidentalmente aggiungerei fare una cosa giusta perché purtroppo ciò che è giusto oggi molto probabilmente dopo domani non lo sarà ci sono esempi molto più drammatici l'amianto la fibra di amianto sembravano la soluzione a tutti i problemi di coibentazione di costruzione e quando fu tirata fuori quella tecnologia era veramente un problema una soluzione eccezionale le case erano più calde i cementi erano fatti meglio era una cosa buona chi poteva immaginare che era un killer silenzioso cosa è mancato? è mancato il risk assessment che probabilmente alcuni di voi hanno sentito nominare è mancata l'analisi del rischio lo facciamo solo per i farmaci perché quelli li mangiamo allora se fanno male vogliamo saperlo ma manca l'analisi del rischio di qualunque tecnologia quindi con un po' di realismo lo scienziato che sogna di essere utile deve porsi il problema di fare un'analisi dei rischi ogni volta che una tecnologia viene tirata fuori serve un'analisi dei rischi serve che qualcuno dica io penso che questa tecnologia possa risolvere quel tal problema ma se utilizzata male o se utilizzata senza cognizione di causa questa tecnologia possa anche fare qualcosa di sbagliato e già il fatto di impegnarsi a pensare i potenziali pericoli è un indice di maturità della scienza e della tecnologia sto dicendo delle banalità assolute però non si fanno e arriviamo a cos'è l'intelligenza perché oggi voi non andiamo per mode avete sentito parlare per tanti anni delle nanotecnologie a questo punto sono ovunque ma in realtà proprio perché sono ovunque uno ha perso quasi il significato è come dire ingegneria quando uno si laurea in ingegneria la prima domanda che gli fate è quanto ha preso come voto e poi la seconda domanda è ingegneria quale ingegneria navale ingegneria idraulica ingegneria civile allora molte tecnologie oggi sono totalmente trasversali totalmente pervasive sono piattaforme tecnologiche che poi si applicano a domini specifici l'ultima di queste mode è l'intelligenza artificiale questa fa ancora più paura ora vediamo perché ma io spero dopo la riflessione di oggi e con la premessa che vi ho fatto sul fatto di essere utili di darvi un'idea chiara del perché si può temere e del perché invece non si deve temere tutti gli argomenti che ci dicono per cui dovremmo essere impauriti dell'intelligenza artificiale della robotica sono fake le uniche cose che non ci dicono sono quelle di cui ci dovremmo preoccupare ora ve le faccio vedere almeno dal mio punto di vista dunque la prima domanda che vorrei farvi è qualcuno di voi se la sente di definire cos'è l'intelligenza voi mi potete interrompere quando volete per le domande però io vi faccio anche le domande perché voglio capire se mi seguite allora qualcuno di voi si sente di dire cos'è l'intelligenza? ni è più intelligente Ronaldo quando fa una di quelle cose pazzesche con l'effetto che metta era più intelligente Picasso quando disegnava quelle cose assolutamente incomprensibili è più intelligenza Einstein quando fa la teoria della relatività cos'è l'intelligenza? o meglio quante sfaccettature ha l'intelligenza? quindi già chi vi dice intelligenza artificiale un po' vi prende in giro perché io chiederei quale l'intelligenza artificiale è quale? facciamo una macchina che sa fare i dribbling e i tiri ad effetto anche quella è intelligenza è molto biomeccanica ma è una forma di intelligenza oppure facciamo una macchina che fa dei conti pazzeschi e inventa la relatività o un poeta che scrive l'infinito non lo so andiamo avanti per ore allora vediamo che cosa succede realmente quindi partiamo dalla realtà è tutto in inglese perché noi non usiamo l'italiano però diciamo sono sicuro che capite e comunque io parlo in italiano almeno ci provo allora noi abbiamo due grandi classi di tecnologia oggi quelle che hanno un corpo embodied e quelle che non hanno un corpo non embodied quelle che hanno un corpo producono forza lavoro esempio ruspa siete abituati sono macchine non intelligenti le ruspe automatizzano aumentano la produttività aiutano gli umani fanno tante cose poi ce ne sono però alcune che sono intelligenti quindi sono macchine con un corpo in grado di fare forza lavoro che però sono intelligenti quindi in qualche maniera sono in grado di prendere delle decisioni di fare qualcosa in maniera autonoma sono sistemi autonomi per esempio i robot quelli che chiamiamo umanoidi poi ve ne facete alcuni le macchine alcune macchine intelligenti che adesso cominciano a essere per esempio nelle fabbriche per la manufattura avanzata poi ci sono le macchine senza corpo telefonino è una macchina non ha corpo serve a fare comunicazioni però il telefonino è piuttosto intelligente perché voi sapete che gli potete parlare gli potete chiedere di fare delle cose chiamami quello fammi quell'altro insomma c'è una forma di utilità di intelligenza tecnica ce ne sono altre senza corpo come telefono tv radio che non sono mai stati intelligenti e che però abbiamo usato e non ci facevano paura allora cosa è successo negli ultimi dieci anni le macchine con corpo stupide e le macchine senza corpo stupide ci hanno sono entrate nelle nostre case non ci hanno mai preoccupato poi a un certo punto una certa un certo mondo tecnologico quelli dei computer dell'information technology ha cominciato a costruire dei computer sempre più potenti in grado di fare milioni e milioni di operazioni al secondo poi miliardi e miliardi di operazioni al secondo oggi siamo arrivati a miliardi di miliardi di operazioni al secondo miliardi di miliardi di operazioni al secondo però finché questi sono su un tavolo o in una stanza e fanno i conti non ci preoccupiamo un altro mondo quello dei robot delle macchine ha cominciato a fare delle macchine sofisticatissime che hanno le nostre stesse apparenze sono degli antropomorfe completamente stupide teleguidate con la playstation diciamo con i telecomandi e non ci facevano paura un terzo mondo che però è recentissimo ha cominciato a far parlare questo super computer con questa super macchina e allora a quel punto la nostra specie con pretesa di essere dominante l'unica specie che cambia il suo ecosistema perché non mangia quello che c'è ma decide lei cosa deve mangiare quindi di 27.000 specie vegetali ne scegliamo 13 e quelle si devono mangiare e modifichiamo l'ambiente perché noi mangiamo solo quello di 15.000 specie animali ne scegliamo 10 perché noi mangiamo solo pollo mucca e così potremo andare avanti per ore questa specie presuntuosa che siamo si sente minacciata dice cavolo ho una macchina una specie di ruspa con braccia e gambe che sa muovere le cose più velocemente più forte di me che in più ha un computer che fa un sacco di operazioni e questa è una minaccia allora vediamo se è vero quello è mio figlio quello biondo il mio terzo figlio ha 10 anni quell'altro anche però si fanno in modo diverso allora non mi dilungo su come si fa questo gratis a parte che devi tenerti la moglie ma insomma vabbè ci sta mi dilungo e ovviamente lei si tiene il marito sia chiaro io sono gender equal e poi mi dilungo invece su come si fa questo qui c'è da copiare tutto occhio vista udito biomeccanica pelle tatto quello deve vedere sentire toccare come me deve essere antropomorfo come me anzi come Alkis perché questo è un bambino ancora e abbiamo la pretesa che sia cognitivo che impari che capisca che interagisca allora vediamo come confrontarli Alkis ha 10 alla 14 sinapsi cosa vuol dire dice la 14 1 con 14 0 dietro 100.000 miliardi di sinapsi cioè di punti in cui si incrociano i neuroni e si parlano il cervello è tridimensionale la mia testa chiaramente dimostra cos'è la tridimensionalità 75% di acqua diffidate da chi dice 90 i neuroni sono interconnessi fra di loro ogni neurone parla con 10.000 primi vicini quindi è un sistema interconnesso c'è il connettoma è come la società umana voi conoscete milioni di persone ne parlate con almeno 10.000 e interagite questa macchina da calcolo con 40 watt un pezzo di cioccolata una barretta energetica vi consente di fare 100 milioni di miliardi di operazioni al secondo se voi foste un computer fareste 100 milioni di miliardi di operazioni al secondo col vostro cervello io ora vi parlo sto in piedi vi guardo ho tutte le mie sensazioni i miei pensieri devo dire qualcosa di sensato se fossi un computer la central processing unit di questo computer dovrebbe fare circa 100 milioni di miliardi di operazioni al secondo per farlo funzionare come funziono è il mio equivalente di calcolo con 40 watt il risultato è mio figlio con una merendina per due giorni rompe le scatole e non ferma nessuno andiamo all'altro silicio quindi non acqua un miliardo di transistor mediamente con 200 watt quindi 5 volte più di me anzi di mio figlio fa 100 milioni di operazioni al secondo 100 milioni di operazioni al secondo con 200 watt 100 milioni di miliardi di operazioni al secondo con 40 watt dopo due ore con un kilowatt le batterie sono scariche che è spento allora prima domanda che vi faccio ma davvero questa è la minaccia? pensiamoci perché andiamo un pochino più a fondo sicuramente il robot è fantastico fa delle cose che sono pazzesche queste sono alcune demo qui c'è un bel un bel katà questo fa lo yoga qui interagisce con gli esseri umani qui scrive il suo nome qui trova delle strategie per fare l'ego questo è tutto autonomo signori e signore non è non è teleguidato è la sua intelligenza ora per scrivere il suo nome ha dovuto imparare l'alfabeto ci ha messo 4 mesi più o meno come un bambino per scrivere il suo nome i cab vuole un kilowatt di potenza se mio figlio volesse un kilowatt per scrivere il suo nome sarebbe stato bocciato 12 volte già in 5 anni per fare questo cosino qua giocare con questa pallina per carità è forse la macchina più performante che c'è sul pianeta ce ne sono 40 di queste nel mondo ormai è uno standard però insomma è chiaro che può fare una cosa molto bene ma tutte le altre non le fa mentre fa questo non sogna non pensa è giusto sufficiente a se stesso per fare quel task allora qual è la grande differenza questo ragazzino si butta vede la palla e non sa nemmeno lì perché la prende cosa ha fatto questo bambino questo ragazzino quando ha visto la palla senza conoscere la legge di gravità la legge di Corioli l'effetto iniziale la quantità di moto della palla il momento angolare la velocità del vento senza conoscere nulla non ha fatto nessun conto si è buttato e guarda caso è arrivato nell'istante giusto con la mano dove arrivava la palla ma non ha calcolato nulla l'ha fatto tutti voi fate queste cose cade un oggetto lo prendono ma mica ho fatto il calcolo sono andato così ecco questo è un miracolo che l'evoluzione ha sviluppato in 3 miliardi di anni perché che cosa ha fatto l'evoluzione ha preso pacchetti di neuroni e gli ha detto questo pacchetto di neuroni che è responsabile del riconoscimento di un oggetto sarà anche responsabile del controllo dei muscoli della mano che quell'oggetto potranno prendere ok? è una sinergia quest'altro pacchetto di neuroni che è responsabile della comprensione del linguaggio sarà responsabile del controllo dei muscoli della lingua che quel linguaggio potranno articolare fantastico 3 miliardi di anni ottimizzazioni quel tipo di funzionamento quello umano che va con gli ioni nell'acqua una roba molto speciale e sta di fatto che questo ragazzo se sta a studiare la palla la prende il computer lo fa se voi prendete un robot e ci mettete un bel super computer grande metà di questo cinema che consuma 10 megawatt lui fa il tracciamento dell'immagine del pallone conoscendo l'impulso iniziale la velocità del vento l'attrito dell'erba la posizione del piede la legge di Corioli la forza di gravità la potenza impulsiva del ragazzo che si butta la traiettoria del suo corpo la dimensione il movimento che fa calcola tutte le possibili traiettorie variazionalmente minimizza l'energia e il tempo e alla fine il portiere ci arriva tempo totale un secondo e mezzo è già gol però perché questo è vero quello che vi ho detto è una simulazione vera allora è inutile noi cerchiamo di scimmiottare un modello di intelligenza parallelo talmente sofisticato basato sull'acqua che riusciamo sì a fare cento miliardi di miliardi di operazioni al secondo come un cervello umano più o meno ma con un costo energetico pazzesco la verità è in questo grafico adesso vi dico un trucco per non drammatizzare l'elite in famiglia vostro marito vostra moglie sono tre taniche di ossigeno carbonidrogeno e tre terrine di azoto calcio e fosforo ogni essere vivente è fatto per il 99,9% da questi sei atomi dalla pianta a noi siamo tutti uguali cambia solo un po' la loro posizione noi una pianta siamo fatti di quella roba lì questo è il mondo del vivente sei atomi quindi quando litigate a casa ridimensionate il vostro interlocutore sta di fatto che la tabella degli elementi chimici ne ha più di 100 di elementi quindi la domanda è scusa ma gli altri 90 arrotti a che cavolo servono ecco alle imitazioni a fare questo il mio orologio il cellulare il microfono questa roba che mi avete attaccato addosso tutte le imitazioni funzionano con gli altri perché non siamo ancora in grado di assemblare questi atomi per fare un robot anzi lo facciamo ma nell'altro metodo che in laboratorio non lo posso fare perché mi mettono in galera quindi questa è la tecnologia evoluzionistica quella è la tecnologia artificiale quella tecnologia lì oggi è in grado di fare 100 miliardi di miliardi di operazioni al secondo ma ha un costo energetico enorme questo diagramma fa vedere la potenza di calcolo dei computer negli ultimi 40 anni un po' di più oggi siamo arrivati effettivamente a miliardi di miliardi di operazioni al secondo vedete che crescita pazzesca no? questa più o meno è la potenza di calcolo di un cervello umano questa è la potenza di calcolo di un topo se voi voleste imitare un topo con un computer vi basterebbero teraflops floating point operation per second più o meno 10.000 volte in meno di un essere umano insomma qual è il messaggio che il costo per ogni singola operazione artificiale è 1000 sino a 5000 il costo energetico sino a 5000 volte di più di un'operazione naturale quindi per essere molto chiaro siccome io voglio fare cose utili se devo aggiustare il cesso di casa perché si è rotto io non uso un'intelligenza artificiale che mi costa 2 milioni di dollari lo potrà anche fare ma non ha senso se devo salvare la vita di un essere umano o andare su Marte o fare una cosa che è talmente importante per cui non vado a spese ma allora benvengano queste tecnologie se si tratta di sostituire un essere umano in una situazione di grande pericolo in una catastrofe appunto di andare sulla luna a costruire una casa che ospiterà gli esseri umani io non posso sacrificare gli uomini allora avere queste macchine che hanno capacità simile alle nostre che hanno un costo esorbitante che non sono convenienti può avere senso perché l'impresa vale la spesa torniamo ad una saggezza popolare di secoli ormai ma nessuno dica che questa roba qua serve a tutto perché chi lo dice mente a meno che non vogliate spendere invece che 100 euro per l'idraulico un paio di milioni per farvi riparare il bagno questo è il punto fondamentale che nessuno dice e come vedete non è ideologico è basato semplicemente su quattro numeri siamo più o meno a livello di addizione e sottrazioni allora qual è la strada che la tecnologia sta sviluppando siccome ai sui tecnologi anche se vi dicono che l'intelligenza artificiale il futuro balle è uno strumento è un cacciavite della mente però qualcuno sta lavorando per renderla più pratica allora cosa facciamo oggi ci inventiamo il cloud che è una super memoria gigantesca che consuma un botto di energia ci mettiamo dentro algoritmi molto potenti computer che fanno girare questi algoritmi e pensiamo di avere milioni di robot tutti scemi individualmente perché non potremo mai mettere dentro quel robottino un computer grande come questa stanza con una centrale elettrica indipendente no? non avrebbe senso allora un solo computer grande come una stanza con una grandissima memoria e tanti robo idioti che sono collegati a quest'unico intelletto chi l'ha sentito nominare l'intelletto di avicenna un unico cervello è una specie brainless senza testa senza mente che a quel cervello si attacca allora un po' di considerazioni intanto il modello del cellulare voi avete tutti un inutile cellulare abbastanza stupido che è collegato al cloud la parte nobile nel cloud il cellulare di per sé non ha tutte queste caratteristiche secondo questo appartiene quanti ce ne sono? 4-5 nel mondo appartiene a 4-5 persone totalmente fuori da ogni controllo perché se il nipote o il pronipote di quello che adesso è il mister X a cui appartiene questo cloud io non devo fare i nomi ma voi sapete di chi sono i cloud se il pronipote che erediterà tutti questi server questo imperio digitale sarà un cocainomane e deciderà una mattina dopo aver fumato l'impossibile che tutti i robot che abbiamo in famiglia devono strozzare quelli pelati con gli occhiali lui lo potrà fare allora il pericolo non è il robot scemo il pericolo è chi possiede questo che è un essere umano carne e ossa quelli da 10 alla 16 sinapsi e quindi noi oggi il vero pericolo ce l'abbiamo perché non abbiamo ancora regolato l'umano che deve gestire questa tecnologia il rischio di questa tecnologia è questo non che questo qua impazzisca adesso vedremo anche perché perché c'è una spiegazione naturale secondo elemento di riflessione è che questa cosa qui che noi chiamiamo che io chiamo l'altra specie si chiama altra specie perché come capite non ha un equivalente biologico perché è vero che c'è la peregina con le api operaie è vero che c'è la formica madre però anche le api operaie hanno il cervello non è che la peregina è l'unica che pensa diciamo invece qui no abbiamo tanti telefonini con braccia e gambe pronti al nostro servizio a casa che so in fabbrica in ospedale è un unico cervello che processa tutto occhio quindi che questo è il vero rischio ed è umano non è artificiale quindi ci siamo noi che siamo imprevedibili indipendenti non riproducibili siamo tutti diversi miracoli della genetica e poi ci sono loro con un'intelligenza collettiva individui con un'intelligenza centrale altamente predecibili e altamente riproducibili questa è l'altra specie con cui noi dovremmo interagire perché comunque questa specie qualche decisione è in grado di prenderla anzi più di qualche decisione allora adesso andiamo a vedere noi e loro perché questa è una parte un po' più filosofica però serve allora ci siamo noi che abbiamo una una intelligenza che è influenzata dalla biochimica io ieri ho litigato con la mia con la mia fidanzata sono nervosissimo e oggi decido per vendetta contro il mondo che certe cose non si fanno una persona invece serena molto contenta prenderà a parità di condizioni una decisione completamente diversa sapete tutti che siamo influenzati dal mood dal fatto che abbiamo dopamine serotonine adrenaline una biochimica ormoni che ci cambiano l'umore molta della nostra intelligenza è anche morale e questo lo dobbiamo tenere in conto è la nostra riproducibilità la macchina ha un algoritmo dategli che questo algoritmo calcola la probabilità che qualcosa succeda se l'algoritmo è vai dritto o vai a destra scegli in base al minor danno che fai l'algoritmo calcola dove c'è la probabilità di fare meno danno e decide ok questa è l'intelligenza della macchina e quindi è un'intelligenza algoritmo che è predittiva è predecibile scusate a parità di condizioni se l'algoritmo gira bene la conclusione sarà sempre quella noi abbiamo fra le nostre proprietà biochimiche un apparato riproduttivo che è progettato per continuare la nostra specie questo apparato riproduttivo genera dei bilanci biochimici per cui possiamo essere innamorati impauriti aggressivi è proprio parte delle specie viventi avere un sistema riproduttivo per continuare la specie quindi l'aggressività la paura l'amore gli stati d'animo che ci cambiano la razionalità dipendono in ultima analisi dal fatto che la nostra specie è programmata per essere continuata il robot è smontato e rimontato non ha parato il produttivo non gliene può fregar di meno della continuazione della specie e quindi niente niente proprio il niente il nulla noi abbiamo un sistema di alimentazione metabolica scendiamo i grassi gli zuccheri e ovviamente siccome abbiamo un istinto di sopravvivenza che è legato alla continuazione anche alla continuazione della specie abbiamo fame diventiamo aggressivi possiamo aver paura questi sono i primordi i principi primordiali che ci rendono una specie comunque predatrice il robot anche se intelligente con una grande intelligenza algoritmica non mangia ha le batterie quando voi chiudete il computer il computer non ha paura di morire se si scarica lo ricaricate e se lo riaccendete lui si riaccende quindi il powering elettronico cioè il fatto di avere delle batterie nel silicio invece che zuccheri grassi nelle fibre della carne fa sì che io posso caricare e ricaricare sempre e quindi anche qui niente tutto quello che è legato agli stati d'animo che influenzano il nostro comportamento nel robot è niente cioè vuol dire che il robot non nascerà mai un robot Hitler perché non nascerà mai uno squilibrato che ha troppa dopamina e troppa adrenalina e vuole dominare il mondo banalmente perché la dopamina e l'adrenalina non ce l'ha perché non ha una specie da continuare e non si deve alimentare quindi chi dice che questi robot ci toglieranno lo zerbino dei piedi e domineranno il mondo parla di un libro di fantascienza e finché si parla di fantascienza va benissimo ma se poi si va nel reale è una sciocchezza colossale non solo non c'è il motivo non ci sono i presupposti a questo punto badate ad un'altra cosa noi abbiamo un comportamento sociale come specie basato sull'educazione l'educazione è basata su due principi ti punisco e ti premio sei andato a scuola promosso sei andato a malascuola bocciato hai fatto una marachella ti levo il videogioco hai fatto il reato ti deprivo della libertà ti metto in galera quindi il meccanismo sociale dell'educazione è una deprivazione di un tuo diritto legata al fatto che tu ti sia comportato bene o male secondo un codice io non lo discuto il codice è quello e c'è sempre un premio o una punizione adesso immaginate di voler educare un robot pure in grado di prendere delle decisioni perché il robot guida la macchina fa le cose che vogliamo noi in base agli algoritmi è impossibile perché che fate gli staccate la batteria e chi se ne frega prima o poi gliela riattaccheranno il robot non ha paura di essere spento la paura è un concetto o meglio uno stato della mente del corpo che viene da bilanci biochimici che dipendono in ultima analisi dal sistema riproduttivo e dal sistema metabolico cioè dalla nostra essenza di esseri viventi insomma per l'essere umano la coscienza di sé la self awareness è la paura di morire cioè di non esserci più per la macchina la self awareness è il senso di esistere nel senso che la macchina sa di essere accesa ma non ha nessuna paura di non esistere perché non ha una specie da continuare e non ha un sistema da alimentare dal punto di vista filosofico questa cosa qui è inesplorata ci stanno lavorando fiori di filosofi su questa roba perché la nuova specie l'altra specie ha questi problemi quindi il risultato si traduce così noi siamo una specie controversa mi amo ma non sono corrisposto ognuno di noi si ama ma si odia no? siamo un contrasto vivente le macchine non siamo capaci di amare basta non abbiamo problemi di amare noi stessi di non corrisponderci di amare qualcun altro il concetto di amore non esiste nella macchina non ha bisogno di amare opera c'è un algoritmo lo sviluppa ci sono altri aspetti che sono quelli regolatori è pur vero che io ho una diavola di macchina e gli dico portami da qui a qui e la macchina è autonoma no? c'è l'automobile è autonoma a un certo punto si rompono i freni e la macchina deve decidere perché è programmata per non creare danno agli umani se fermarsi sul muro uccidendo in quel momento i pedoni oppure buttarsi nella scarpata sacrificando il passeggero che sta trasportando come fa la macchina a decidere? è banale calcola la probabilità di fare minor danno minor numero di morti e poi su quella base decide e tutte le macchine in quelle condizioni decideranno lo stesso perché il discorso è qual è la traiettoria la decisione che mi fa meno danno il danno può essere numero di fratture numero di morti quello che è se a guidare non fosse la macchina fosse un essere umano l'essere umano ovviamente in prima istanza direbbe devo fare meno danno possibile però occhio ragazzi se dentro c'è suo figlio piccolo dice calcolo istantaneo ammazzo il pedone vado in galera ma non so che fai con mio figlio anche se forse la probabilità di sacrificare il figlio avrebbe potuto essere leggermente inferiore chiaro perché noi ragioniamo non solo in algoritmo ma anche come dicevo prima in biochimica è la nostra condanna ma anche la nostra bellezza la nostra creatività allora come si gestisce la macchina intelligente? per questo è un altro problema enorme la trattiamo come un cucciolo quindi se il cagnolino vi morde il proprietario è colpevole non gli ha messo la museruola la trattiamo come un minorenne quindi per alcune azioni specifiche è responsabilità del ragazzino per altre più complesse è sempre dei genitori la trattiamo come un artefatto un manufatto quindi il costruttore è sempre è sempre colpa sua è colpa della non lo so della Fiat di chi l'ha costruita ma capite che problemi pazzeschi che li abbiamo solo all'orizzonte no? non sappiamo nemmeno come trattarli figuratevi parlare con degli avvocati di questa roba no? cioè per loro questa è un'autostrada culturale eccetera da imboccare infatti ci sono fior di professionisti che lavorano su questa roba quindi oltre a questo problema regolatorio che non è banale perché è la prima volta che abbiamo una specie senziente pensante che decide capace di intendere di volere ma non come noi come vi ho fatto vedere prima è la prima volta quindi non sappiamo come comportarci l'interazione con la macchina è non chiara ancora oltre a questo problema ci abbiamo l'altro problema chi è che controlla l'intelligenza collettiva questo ve l'ho detto prima che ripeto è in mano delle persone non a macchine gli stati aspettavo la risata le compagnie potete ridere ancora di più quindi è tutto da vedere adesso vediamo listi robot perché credo che di spunti di riflessione ce ne siano stati diversi e soprattutto vi volevo far capire con questa chiacchierata a metà strada fra il tecnico e il filosofico che se uno vuole fare qualcosa di utile in questo mestiere c'è solo da non persi la faccia è talmente difficile se si considerano le cose in maniera approfondita non su Twitter con 140 caratteri studiandole che è veramente molto difficile e qui la prima regola è non temere quello che non capisci studialo che è esattamente l'opposto di quello che succede oggi che tiriamo fuori le grandi paure senza capire di che parliamo questa roba è complessa va studiata non va temuta va analizzata la seconda massima che io collego a questa è non ci sono scorciatoie alla fatica questa roba è una pedalata in salita sempre se la vuoi fare bene non c'è scorciatoie terza cerca di essere giusto con quelli che non lo meritano perché essere giusto con quelli bravi e buoni è facilissimo essere giusti con quelli che non lo meritano in questo mestiere è complicatissimo perché ti verrebbe di dargli una testata sul naso e non puoi anzi lì ti devi sforzare di essere giusto è molto complesso quando fai questo mestiere poi alcune cose si capiranno dopo questi sono alcuni dei nostri robot ok noi imitiamo quello che è naturale la pianta la capra tutti i tipi di umanoidi di tutte le dimensioni facciamo anche qualcosa di sovranaturale quello è un centauro lo vedrete in funzione e la speranza è che questa roba serva questi sono robot con il corpo embodied d'accordo? vi faccio vedere degli esempi questo è di tre settimane fa siamo all'aeroporto di Genova al centro piaggio questo è il nostro il nostro caprone che tira un aero questi non sono caproni sono i nostri scienziati che tira un aero da quattro tonnellate e mezzo qui potete quasi sentire la sofferenza dell'animale allora tenete conto che questo è completamente autonomo cioè qui il punto è sembra vivo perché ha la stessa biomeccanica dell'essere vivente però funziona con delle batterie ad altissima capacità che sono queste qua sotto ha una potenza straordinaria vedete tira un aereo allora che serve? non certo a tirare gli aerei questo serve perché in momenti sciagurati tremendi come il cloro del ponte Morandi dove purtroppo questa macchina ancora non c'era un oggetto di questo tipo può camminare su qualsiasi fondo come la capra qual è il miglior scalatore che esiste? la capra no? allora questo può andare dove non arrivano i mezzi cingolati dove non arrivano i mezzi con le ruote e una volta arrivato lì intervenire ovvio che può avere applicazioni militari quindi diciamo come tutte le tecnologie è duale può essere usato in tanti modi però vi chiedo anche ma quando c'è una catastrofe noi non chiamiamo mica le ballerine del cabaret chiamiamo l'esercito quindi tutto sommato ricordiamoci che ancora oggi per fortuna nel 90% dei casi è l'esercito che ci dà una mano quindi questi strumenti uno li deve vedere soprattutto come strumenti di aiuto per le catastrofi e per i momenti difficili non per fare la guerra che francamente sarebbe una grande sconfitta speriamo non ce ne sia bisogno questo è il centauro vedete questo tizio qui? con questo suo scheletro fa dei movimenti e il robot li copia identici questa è una macchina a tele operata ora vi spiego a che serve qui lo vedete questo giardino bellissimo che vedete è il giardino della villa di Jeff Bezos sapete chi è no? il proprietario di Amazon che ogni due anni invita alcuni gruppi selezionati da tutto il mondo a vedere nuove tecnologie per lo spazio perché lui e altri hanno il pallino di andare negli altri pianeti a costruire delle basi per gli esseri umani domanda chi ci mandiamo a fare le prime basi diciamo urbanizzate antropizzate per gli esseri umani non certo degli esseri umani ci dobbiamo mandare delle macchine che siano in grado di cavarsela su tutti i fondi e una volta che sono arrivate dove servono siano in grado di fare qualcosa per noi e in che modo? come vedete qua con quello che lo teleopera allora qual è la visione? io sono un umano seduto sulla base sulla stazione spaziale orbitante al sicuro oggi ci abbiamo il nostro astro Luca il nostro astronauta che fra un po' diventare il capo dell'equipaggio sulla stazione Palmisano sulla stazione spaziale il nostro astronauta veste un sistema realtà aumentata con una tuta nella realtà aumentata vede quello che il robot vede che ne so sulla luna e fa fare al robot quello che farebbe lui se lui fosse al posto del robot è un avatar però è un avatar a quattro zampe con due mani con la vista infrarossa e se vogliamo gli mettiamo dodici braccia e diciotto gambe perché a quel punto noi non abbiamo vincoli sul progetto della macchina questo è proprio il concetto qui ne vedete due tipi lì è sempre lui questo è un altro dei centauri qui fa un movimento da muratore in pila dei mattoni dall'altra parte per esempio fa una cosa carinissima vedete un colpo di karate tirato anche con una buona tecnica su una barra di pino da 20 mm ora è ovvio che sono delle demo però capite qual è la la potenza la flessibilità di queste macchine queste operano per noi dove noi non potremmo andare ecco qui serve essere oltre l'evoluzione l'evoluzione non l'ha fatto il centauro lo facciamo noi a questo punto possiamo progettare ben oltre una macchina così complessa questi sono umanoidi il primo è un task di assistenza passa dalle scatole un umano il secondo guida una macchina elettrica ecco devo dire che diciamo questo qui è un metro e settanta e qualcosa è lui che è molto alto in realtà lui è circa un metro e settanta questo qui invece è due metri è molto grosso abbiamo dovuto addirittura spostarlo sul sedile perché non entrava nel rover questo è il parcheggio dell'istituto vedete deve fare una piccola gincana ma qui lui guida in autonomia non è la macchina autonoma è proprio lui che guida cioè col pedale col piedone che schiaccia l'acceleratore frena c'è il volante e deve scegliere la situazione migliore per fare questa piccola gincana ecco questo è il suo piede 54 sull'acceleratore questo è l'istituto alle spalle questo qua questa è un'altra è un'altra macchina che si trova alla fondazione Don Gnocchi che credo tutti conosciate è forse il più grande ospedale dove si fa riabilitazione e terapia per anziani per persone con problemi di natura neurologica o altro questo è un robot che interagisce col paziente qui il paziente gli ha detto non c'è l'audio va in cucina e prendimi il succo di frutta questa è la sua visione allora badate questo è un task molto complesso noi non gli diciamo va in cucina in posizione XYZ prendi la scatoletta verde di 12 cm per 4 e portamela questo lo sa fare qualunque macchina noi gli diciamo vai in cucina e portami il succo di frutta è sul tavolo esattamente come si fa con un umano per il robot riconoscere il succo di frutta cioè tecnicamente io lo posso confondere gli posso mettere 5 bottiglietti di succhi di frutta e poi sono cavoli suoi quando voi dite ad un vostro compagno compagna umana mi vai a prendere il succo di frutta in cucina lui non vi chiede in frigo sul tavolo va e lo cerca se gli dite la ciliegia trova quella la ciliegia ma lo trova ecco per un robot questa cosa qui è complicatissima come tipo di task un conto è dirgli esattamente cosa si vuole un conto è dirgli vai e riconosci un succo di frutta allora qui c'è una tecnologia enorme perché questa macchina è collegata in questo caso con un 4G ma con il 5 sarà più veloce al cloud dove c'è tutta la sua conoscenza dei succhi di frutta delle traiettorie e opera per noi capite che lì si tratta di avere una persona che non si può muovere a cui si chiede che può chiedere portami questo portami quell'altro sempre meglio avere un umano intorno ma in mancanza di umani o in particolari per esempio di notte eccetera questo è un problema e può essere risolto qui vedete un altro esempio questo filmato flickara un po' non so perché vedete un altro esempio di teleoperazione questo criceto si muove su una pedale inersiale ed è in realtà in realtà aumentata lui vede qui tutto quello che vede il robot questo è quello che vede il robot adesso si incontra questa ragazza che viene dalla Malè da Taiwan la ragazza gli dà il giocattolino lui lo vuole prendere e il suo avatar lo prende a questo punto dopo che l'ha preso il nostro criceto riprende a camminare nella direzione che decide vedete che ora si gira e il robot riprende a camminare esattamente come lui cosa sta facendo? lui sta conducendo un drone che opera per suo conto questa cosa qua la potete vedere per applicazioni nello spazio in applicazioni in ambienti radioattivi in applicazioni in ambienti molto pericolosi ma con robot diversi può diventare per esempio per la chirurgia cioè la capacità di controllare una macchina autonoma con grandissima precisione e di essere immersi nella realtà della macchina autonoma è una capacità fondamentale qui per esempio vedete un altro interessante aspetto dell'intelligenza artificiale questa operaia che in realtà è una nostra ricercatrice è tutta sensorizzata e questi sensori misurano la fatica la fatica la vedete qua forza, coppia acido lattico eccetera a un certo punto siccome la pistola pesa due chili la fatica diventa troppo alta e vedete che l'aggiunzione della spalla va in codice rosso troppa fatica si sta stancando ecco che il robot interviene aspetta che ti faccio stare più comoda allora vi faccio una domanda sapete quanto costano i malanni da lavoro in Europa ogni anno? 230 miliardi di euro 230 miliardi malanni da lavoro pensate risparmiandone il 20% avremmo 46 miliardi da investire nella cura delle malattie rare sto facendo un esempio qualsiasi 20% cioè non deve nemmeno essere troppo di successo questa tecnologia capite cosa vuol dire pensare di fare qualcosa di utile? perché questo è l'obiettivo avere un lavoratore che ha meno malanni che lavora meglio che produce di più perché tra l'altro si stanca di meno ridurre una spesa pubblica inutile per trasportarla su qualche altra cosa che invece è utile perché purtroppo quello che si cura è ineluttabile invece qua non è ineluttabile questa ergonomia si può correggere ok? questo è un altro aspetto fondamentale questo signore che vedete è un chirurgo un microchirurgo dell'autorino un linguagliatra illuminare a livello internazionale al San Martino un nostro collega che per ore e ore opera come vedete qua allora notate con la destra tiene il microscopio con la sinistra tiene il forcipe qui è il paziente e vedete nella bocca entra dentro il sistema con cui lui fa questo rimuove una zona tumorale allora per sei ore questo tizio sta così con questo taglia e vede il microscopio provateci due minuti e poi mi dite come state con le spalle e i gomiti allora è chiaro che questo signore è un atleta come tutti i chirurghi a questo livello perché deve essere un atleta come muscolatura stabilità è una persona di grandissima perizia perché sa fare delle cose difficili e salva la pelle alle persone però vi chiedo quando è giovane e ha la muscolatura forte non è esperto quando è vecchio ed esperto comincia come me ad avere la muscolatura un po' stanca e caso me è presbite quindi per quanti anni usiamo questo signore che salva le vite forse per dieci che è il periodo in cui è a buona esperienza e ancora buona resistenza fisica ma noi vogliamo utilizzarlo per trent'anni perché questi sono dei benefattori allora lo dobbiamo mettere in condizione di lavorare in modo diverso ecco questo è quello che fa l'intelligenza artificiale sempre lui questo è il bisturi lui fa con questa penna sull'iPad quello che farebbe se fosse dentro il corpo vedete il fumo qua sta tagliando l'endoscopio entra dentro la gola del paziente questo è quello che lui vede cioè cosa sta facendo lui lui vede dentro il sistema di realtà aumentata tutto quello che vede nell'endoscopio è come se fosse lì dentro e poi dice questa zona gialla va rimossa la vede qua e con la penna disegna sull'iPad quello che farebbe se fosse il bisturi nel mondo vero quando è convinto che le cose vanno bene taglia questo è il robot che gestisce il laser che fa da bisturi vedete che precisione può fare delle cose pazzesche una precisione che nessun essere umano ha e consente di fare tagli ablazioni pensate lavorare sei ore così è come stare al computer nell'altro modo è come fare un triathlon oggettivamente è ben altra cosa questo adesso si collega al 5G quindi lui può operare a distanza di chilometri noi abbiamo una sala operatoria in un posto in un'area con uno spot 5G e il paziente in un altro questo democratizza abbassa le differenze un giorno sceglierete il chirurgo che volete dove vi serve e lui opererà 5G in tempo reale senza tempi di latenza lunghi e potrà fare delle cose come avete visto senza bisogno di entrare con le mani nel corpo perché è tutto quanto disaccoppiato da questi sistemi intelligenti dopodiché siccome quando andate a vedere questa roba sul serio è tutta rossiccia e sembra tutto uguale l'intelligenza artificiale entra nel robot e consente di distinguere i tessuti fegato milsa intestino addirittura l'intelligenza artificiale identifica nervi o vasi che non vanno tagliati per cui se per caso il chirurgo è stanco e sbaglia il robot ferma e dice no qua non ci puoi andare perché se tagli qui gli fai un danno allora non solo si preserva il paziente ma si diminuiscono anche le cause che potete immaginare quanto siano pesanti nel mondo diciamo della sanità se l'umano fa degli errori ecco a cosa serve l'intelligenza artificiale se la volete usare bene un'altra cosa che si può fare con questi robot è prendere dei pezzi e utilizzarli per dare roba molto utile questo signore è uno dei più di 100 amputati che lavorano con noi insieme all'Inail questo è uno che addestra la sua protesi la mano è quella del robot è stata adesso è certificata questo è un prodotto diciamo vedete lui ha dei contatti speciali sul moncherino muovendo i muscoli si gonfiano e si sgonfiano creano piccoli campi elettrici questi vengono registrati e diciamo guidano il movimento della mano questo signore ha provato tutte le protesi che ci sono sul mercato poi alla fine ha addestrato la nostra ne abbiamo tante ormai ci sono tanti pazienti che fanno questo adesso lo vedrete questo è il prodotto finale questa ovviamente è la mano finta ma comincia ad essere quasi indistinguibile questa è una mano che ormai costa poco più di 10.000 euro 11.000 euro servizio sanitario nazionale nella 7.500 quindi è molto accessibile fruibile come tecnologia e ha un'altra cosa impressionante le abbiamo sviluppate anche col polso rotante in modo tale che possano fare il bancomat che è una delle esigenze che hanno queste persone sì perché se io ascio la mano con il polso che non ruota per il bancomat devo fare così ci hanno chiesto vogliamo andare a fare essere autonomi quando devo fare il bancomat è una roba che se c'è le mani non ci pensi e vedete qui per esempio guardate qui usa lo spray da cucina e poi ha il polso diciamo che si muove a sufficienza da poter usare un panno e pulire ecco questa qui se deve fare la doccia se la leva si fa la doccia poi se la rinfila è un guanto non ha fili cose strane che entrano dentro è tutta vestibile guardate come maneggia la carta è un foglio di carta quello insomma quindi vi fa capire che tipo di recupero può dare una tecnologia di questo tipo adesso lui fa una roba che nessuna protesi può fare vedete perché c'è il polso mobile ok la next generation technology è questa qua noi dobbiamo andare senza contatti con il pensiero con dei caschetti che misurano le attività cerebrali vedete questo ragazzo ha un sistema che è collegato diciamo misura questi caschetti che misurano l'attività cerebrale e vengono tradotti in comando per la mano c'è il futuro che non ci siamo ma che contatti io ho questo caschettino e mi muovo la protesi può essere di qualunque genere ora questa è la mano ma chiudiamo con oltre l'evoluzione perché poi alla fine noi vogliamo volare Pegaso purtroppo è rimasto lì c'è tanti problemi sulla manipolazione in aria la locomozione in aria voglio farvi vedere dei filmati che sono carini i robot più avanzati quando sono bipedi fanno questo spesso non riescono a camminare vedete che fantastiche cadute perché su terreni strani non riescono questi sono robot da un milione un milione e mezzo di dollari è una roba molto complessa oppure si cerca di mettere su ops scusate ho sbagliato si cerca di mettere su un elicottero questo è un microelicottero una specie di drone un po' più grosso vedete un braccio questo è un braccio cuca e questo elicottero con questo braccio deve andare a manipolare una cosa per cui comincia a oscillare e col braccio deve cercare di prendere l'oggetto da terra insomma è una tecnologia che non funziona bene allora noi abbiamo avuto un'altra idea facciamo l'omogget eccolo qua questo è il nostro parcheggio lo stesso di prima e questo è uno che ha dei bei jetpack sono dei piccoli jet a cherosene i francesi hanno fatto vedere quello sui Champs-Élysées due giorni fa ora tutti parlano di quello questo c'è due anni e mezzo già però noi non l'abbiamo portato ai Champs-Élysées allora qual è il concetto qui questi micro reattori sono quelli che vedete qua ecco sono reattori di questa dimensione sono dei micro oggetti aeronautici con 22 kg di spinta il robone pesa 30 quindi un paio lo tirano su facilmente il ragazzo lì ne aveva 4 due più grossi due più piccoli più di 100 kg di spinta si solleva e vola allora questi qui sono dei micro oggetti il punto è che bisogna innestarli sul robot e fare in modo che il robot possa controllare esattamente come fareste in acqua con il jet ski possa controllare il volo adesso questo vi faccio vedere solo le simulazioni perché abbiamo qualche esperimento però ancora non si può mostrare ecco queste sono proprio le simulazioni al computer di come questo non è un cartone animato è un calcolo esatto cioè è lo stesso software che fa muovere il robot che nel caso il robot avesse 4 jet di spinta gli consentirebbe di volare e di atterrare verticale quindi questo è già pronto per essere caricato nell'intelligenza artificiale del robot e farlo volare comunque il problema è che siccome un robot così costa 300.000 euro più il jetpack che sono altri 50-60.000 più delle questioni di sicurezza perché se esplode è comunque una bomba che rosene ci sono dei passaggi un po' delicati da fare però stiamo muovendoci in quella direzione bene concludiamo concludiamo dicendo questo ma che cosa è successo all'umanità negli ultimi 20 anni vedete questo è un diagramma molto complicato qui siamo 1860 e questo è il 2000 e questi ci sono sono gli anni che sono stati necessari affinché una certa tecnologia raggiungesse un quarto della popolazione degli Stati Uniti cioè diventasse di massa allora come vedete il telefono ci ha messo un sacco di anni ma tanti quindi 20-30 anni per raggiungere un quarto della popolazione la radio anch'essa 30 anni la televisione 25 il computer 15 il web 5 allora nella storia della tecnologia ogni rivoluzione macchina da scoppio macchina da stampa prendete quello che volete ogni grande tecnologia si è diffusa ed è diventata di dominio comune in maniera intergenerazionale cioè da padre a figlio la famiglia e quindi la società si adattava il sistema scolastico si adattava il sistema manifatturiero si adattava la produzione industriale persino il sistema regolatorio le leggi compariva l'automobile dopo 40 anni c'era il codice della strada ma era fisiologico perché in quei 40 anni le macchine erano aumentate e a quel punto quando c'era un codice era sufficiente progresso intergenerazionale da padre a figlio abbiamo tempo di adeguarci la società si adegua e metabolizza l'informazione negli ultimi anni le ultime tecnologie ci hanno messo 5 anni il progresso è diventato intragenerazionale da padre a figlio il padre è un dinosauro dopo 5 anni è un dinosauro con il figlio chi perde il lavoro a 40 anni a 50 la perde un'altra volta perché intanto le nuove tecnologie su scala di 10 anni già allora se passiamo dall'intergenerazionale all'intragenerazionale vuol dire che negli ultimi 10-15 anni la società non ha metabolizzato nulla e infatti il nostro sistema formativo il nostro sistema regolatorio il nostro sistema industriale la famosa digitalizzazione è tutto in ritardo c'era qualche imbecille di radical chic che diceva che la primavera araba era un grande segno di cultura e di progresso perché gli abbiamo dato un iPad e gli abbiamo detto guarda come viviamo noi e gli arabi nel nord Africa scusate hanno cominciato a dire ah guarda allora siamo democratici anche noi andate a vedere oggi cosa è successo a me non è che piacesse Gheddafi per oggi stanno peggio tutti perché quelle società non hanno metabolizzato l'informazione che era contenuta da questa tecnologia troppo veloce ve lo traduco io ti faccio vedere come si pilota un Boeing sull'iPad ma poi tu voli con me se guido io che ho imparato sull'iPad no ti faccio vedere come si fa avete visto come si fa un'operazione no l'avete visto sull'iPad l'avete visto adesso fareste operare qualcuno da uno che ha visto come si fa con l'operazione di prima no però quando la società gli abbia andato il modello occidentale su internet ah beh basta è metabolizzato sono pronti sono democratici anche loro e oggi abbiamo i flussi migratori questa è la grande porcata delle tecnologie io la chiamo porcata è proprio la porcata del digitale perché è tutto un bluff e questo è uno dei più grandi problemi che questa tecnologia ha portato avanti nessuno ha fatto una riflessione su quali fossero i rischi di questo modello in cui l'informazione non è metabolizzata l'uomo è lento è parallelo è lento deve studiare deve pensare deve capire e dopo che ha capito forse forse è in grado di operare sbattere su un film tutto quanto e dire adesso ho imparato vai perché sei diventato maturo sei diventato adulto sei un pilota sei democratico è una presa in giro ma è epocale nel frattempo queste tecnologie stanno ammazzando i lavori alcune di queste tecnologie rimpiazzano i lavori di routine cognitiva e di routine manuale nel passato è sempre successo ma siccome facevamo a tempo a metabolizzare è vero che sparivano dei lavori ma nel frattempo se ne creavano altri e più o meno in 30-40 anni il bilancio era sempre positivo sì spariva il contadino con la zappa perché c'era la trebbiatrice a controllo numerico però potevi fare il magazziniere oggi se mi scompare l'operaio in fabbrica io non è che lo riconverto in tre anni in un ingegnere elettronico che mi progetta in cuda le GPU di ultima generazione questo è il vero problema allora la domanda è se io devo aumentare l'esperienza up skill rieducare recuperare il lavoratore il cittadino in tempi molto brevi non ce la faccio soprattutto in Italia dove io che ho 57 anni ho studiato quattro volte le guerre puniche all'elementare e alle medie al liceo mio figlio di 25 pure mio figlio di 21 pure mio figlio di 10 non dico pure perché deve ancora studiare alle medie ma anche lui sta studiando le guerre puniche quindi noi siamo indietro dal punto di vista del recupero della cultura in maniera epocale e questa cosa qua non la dice nessuno a noi serve una società basata sul continuous learning cioè una società di aggiornamento continuo dove la scuola dovrebbe fare il suo ruolo la politica il suo ruolo la televisione i mass media i giornali pubblico e privato dovrebbero essere d'accordo a investire sui cittadini e sui lavoratori non si può fare un corso di programmazione elettronica mentre fai l'operaio o l'insegnante a scuola ma almeno dire le cose come stanno alle 8 di sera prima del telegiornale c'è un tizio che scoperchia i barattoli gli scatoloni e se c'è azzeccato prendi 15.000 euro se non c'è azzeccato non li prendi ecco diciamo che non dico di fare programmazione in cuda prima del telegiornale ma casomai non obbrubinare le menti delle persone fare qualcosa di un pochino più rispettoso dell'intelletto del cittadino ho finito ho finito un'ultima cosa devo chiudere col sogno perché sennò chiudo qua sì allora alla fine di tutto questo avrete capito che sono una persona polemica mediamente incavolata come padre come scienziato come operatore del pubblico avete capito che ho tante cose da dire contro tutto e tutti però avete anche capito che in tutta la vita me e tutti gli scienziati cosa abbiamo fatto abbiamo sempre cercato di fare una cosa utile col massimo senso di responsabilità sperando che fosse anche ben utilizzata allora noi viviamo oggi in questo pianeta questa è la mappa del mondo in cui riporto l'indice di sviluppo umano voi sapete che cos'è l'indice di sviluppo umano? allora l'indice di sviluppo umano è un numeretto inventato dagli economisti che sostanzialmente dice quanto un paese è avanzato basato su tre parametri il primo è gli anni di scolarizzazione in una società dove si studia ovviamente c'è un progresso sociale probabile l'altro è il pil pro capite soldi quanto siamo ricchi e terzo è l'aspettativa di vita quindi non per essere proprio catalano ma se vivo a lungo ho abbastanza soldi ho studiato probabilmente sono in un paese abbastanza avanzato quando l'indice di sviluppo umano è circa 1 maggiore di 0,8 0,88 le zone nere se un marziano atterrasse qua direbbe questo è un pianeta avanzato non servivano gli economisti per dire che gli Stati Uniti l'Europa il Giappone un po' di Australia erano i posti più ricchi e benestanti della Terra però è quantitativo il problema è quando l'indice di sviluppo umano è sotto 0,5 cioè medioevo e qui ancora non servivano gli economisti per dire che queste sono le zone sfigate ok allora la tecnologia oggi che cosa può fare per mettere quelle famose toppe allora tutto questo mondo ha un problema un debito di sostenibilità ambientale pazzesco ed è di tutti io disloco le produzioni in Romania così la monnezza è a casa loro e io mi godo il pil di questa produzione a basso costo però mi sono dimenticato che la COX prodotta in Romania poi mi arriva anche da me perché dopo ci metto una giornata a ridistribuirsi nell'atmosfera io penso che sto bene qua faccio un muro qua un muro qua un po' di muri così mi sono protetto ma qua ci sta il 60% della popolazione del mondo che non faremo i muri li scavalcheranno perché è ovvio non è sostenibile potremmo andare avanti per molto tempo però avete capito che la sostenibilità globale è il target della tecnologia moderna allora bisogna pensare che l'intelligenza artificiale ai sistemi autonomi la prima cosa che devono fare è ottimizzare i processi in un processo industriale ridurre la quantità di acqua che si usa la quantità di energia ecco a quello serve io ho una manifattura devo far crescere il PIL non dico del 2% di un po' AI i sistemi autonomi servono a quello a migliorare la manifattura a renderla più sostenibile questi sistemi intelligenti l'intelligenza artificiale e i sistemi che con essa funzionano devono rimpiazzare gli umani nei posti pericolosi pesanti dove ci sono condizioni di lavoro impossibili devono migliorare l'agricoltura devono ridurre l'impronta di carbonio di quello che facciamo se queste cose verranno fatte tutto avrà avuto un senso se alla fine avremo fatto una nuova internet per cui i ricchi avranno il robot in famiglia che gli fa l'uovo e che gli porta l'acqua e continuerà la gente a migrare da qua a qua e da qua a qua avremo sbagliato tutto ma la colpa non sarà degli scienziati la colpa sarà di un modello che non è il nostro grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti